oi ciao per dopo una vita difficile molto difficile dai entrate non mi dico che non avete il vino perché ci siamo accorti all'ultimo che il dono è finito dai vabbè posso andare io giù a prenderlo se non ci avete no no non ti preoccupare veramente siamo siamo piene il giubbotto ah e lo puoi prendere qua grazie a sinistra ti posso dare una mano si puoi aprire la bottiglia ciao ciao ma non so questo è proprio bene anche a provare la peglia mamma mia regista comunissimo buono quando dice faremo delle buona mano